Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura La Cronaca, una serata di follia nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo. Nella tarda serata di ieri ben tre le tentate rapine segnalate a distanza di pochi minuti. Il responsabile, un cittadino pakistano, è stato poi arrestato. L'uomo, armato di un piccolo coltellino a serramanico, nell'arco di pochi minuti, ha tentato di rapinare quattro persone all'interno della stazione ferroviaria di Arezzo. Sul posto si sono subito portate le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo che dopo aver bloccato ogni via di fuga hanno rintracciato l'uomo. Ad aiutare il riconoscimento sono stati i racconti delle vittime e il fatto che il pakistano stesse indossando un cappotto rosso. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, l'uomo avrebbe prima aggredito una persona cercando di strappargli con violenza la borsa a tracolla senza riuscirci. A quel punto ha scelto la seconda vittima, un uomo che ha minacciato puntandogli contro il coltellino e chiedendo del denaro oltre a tentare di strappargli lo zaino che aveva indosso. Ma anche in questo caso la vittima è riuscita a scappare. Infine sono state avvicinate due ragazze a cui l'uomo ha tentato di strappare di dosso la borsa da palestra. In loro soccorso è arrivato il primo passante a cui il pakistano aveva tentato di prendere la borsa. A quel punto sono stati i poliziotti a fermare il pakistano. A 27 anni è presente regolarmente sul territorio nazionale ma con diversi precedenti specifici. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina ed è stato trasferito presso il carcere di Arezzo. Il sindaco di Arezzo ha convocato un'assemblea straordinaria di Coingas per il caso delle maxi bollette estra. Sentiamo la voce di Federconsumatori Arezzo che sta ricevendo sempre più segnalazioni in merito e che ha sollevato il caso annunciando anche un esposto. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. Chiara Rubiani, presidente di Federconsumatori, state seguendo questa vicenda delle maxi bollette estra che sono arrivate a cittadini ma anche a piccole imprese. C'è un primo riscontro da parte del Comune. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha chiesto la convocazione di un'assemblea straordinaria. È un segnale ma poi va trovata una soluzione. Assolutamente bisogna trovare una soluzione. Un sostegno per queste famiglie già così gravamente colpite da un'inflazione galoppante che voglio ricordare ha raggiunto il 12%. Un'inflazione che non vedevamo più ormai da anni. Le famiglie devono scegliere se comprare la carne, se pagare le bollette. È una situazione così grave e insostenibile. Vedersi arrivare delle fatture per il consumo anche stimato, solo stimato, quindi non effettivo, estremamente elevate, addirittura quadruplicate, è assolutamente insostenibile per le famiglie. Noi abbiamo chiesto quindi, abbiamo interloquito con l'intervento della compagine sociale con Coingas che è costituita dai sindaci. Quali sono, diciamo, secondo voi i casi più gravi che state seguendo? Sono tantissimi. Abbiamo persone monoreddito, pensionati, con pensione al minimo. Cioè sono situazioni veramente, veramente insostenibili. Estra deve dare una risposta anche perché ci raccontano, sappiamo, di persone che cercano di contattare il call center, che cercano di contattare gli uffici, ma non ricevono risposte. Estra, che è una società pubblica, deve dare risposte. I vostri uffici possono ancora accogliere qualche segnalazione? No, assolutamente sì, le stiamo ricevendo costantemente. Anche ora la posta è piena. Lunedì mattina abbiamo persone che verranno al nostro sportello, noi facciamo assolutamente accoglienza, raccogliamo la documentazione, verifichiamo qual è la problematica e quale possa essere la casistica che noi abbiamo già rilevato essere costituita da due macro aree di problematiche. La normativa impone, a far data dagli ultimi anni, di fare le sostituzioni massive dei contatori con quelli di ultima generazione o quantomeno con quelli elettronici, quindi che hanno la possibilità l'obbligo, io vorrei dire, di essere tre eletti perché i cittadini, gli utenti devono pagare il consumo effettivo e questo è lo spirito della norma che impone la sostituzione dei contatori, evitando così la discrezionalità dei gestori e nonostante questo noi leggiamo consumi stimati molto elevati, addirittura che non hanno nulla a che vedere con il consumo poi effettivo che vanno a controllare le persone ma che non rientrano neppure nello storico dei consumi. Le persone si sono trovate delle fatture, le nuove fatture con una variazione tariffaria che le persone ci riferiscono ad essere stata loro comunicata e questo secondo noi è assolutamente grave perché la normativa impone la comunicazione preventiva perché le persone devono poter scegliere, quindi la comunicazione deve essere chiara, assolutamente chiara, esaustiva e completa quando effettuata e deve essere obbligatoriamente effettuata perché gli utenti devono poter scegliere se rimanere con questo gestore, se cambiare gestore o addirittura rientrare nel mercato tutelato che ad oggi ricordo rispetto alle fatture che sono state recapitate hanno una tariffazione estremamente più conveniente. E a sei giorni dal terremoto in Turchia il contingente dei Vigili del Fuoco italiano sarà vicendato da un nuovo team composto da 48 soccorritori USAR Urban Search and Rescue di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Umbria e Veneto. La partenza stasera da pratica di mare con scalo a Pisa a bordo di due aerei ATR 42 della Guardia di Finanza con arrivo previsto nella notte ad Adana. Nella giornata di domani il cambio con rientro in Italia dei Vigili del Fuoco arrivati martedì scorso in Turchia e che sono riusciti a salvare i due ragazzi nella giornata di mercoledì 11 il numero delle vittime che hanno recuperato. E adesso andiamo in Valtiberina perché il caso della Gattara di Anghiari ha suscitato molte reazioni e polemiche. Sentiamo la posizione del Comune nel prossimo servizio. Prosegue la battaglia di Eleonora Iacono, fondatrice dell'Associazione La Gattara che nella frazione di Ponte Arlapiera, siamo nel Comune di Anghiari, Valtiberina, Toscana, ospita in un terreno privato circa 25 gatti. Recentemente, in seguito ad una segnalazione, è stato riscontrato, l'intervento sarebbe stato dei carabinieri forestali, un abuso edilizio. In seguito al presunto illecito, il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione di quello che chiameremo impropriamente rifugio, di fatto un casottino di legno in un terreno agricolo privato. Ad essere chiamato in causa, dunque non solo da Eleonora, ma anche dalle tante associazioni che si sono schierate dalla sua parte, è stato il Comune di Anghiari che risponde, dicendo che sarebbe stata proprio Eleonora e altre persone a suo tempo a rifiutare l'affidamento di quella che sarebbe diventata una colonia felina, censita, quindi pubblica. Oggi questi animali possono essere qualificati come gatti di proprietà. Intanto grazie per l'intervista. Sì, premetto che conosco bene Eleonora e apprezzo moltissimo quello che fa per i gatti, quindi è una vera risorsa per il nostro Comune, su questo non c'è niente da dire. Nello specifico però ricordo che la tutela dei gatti, delle colonie feline ha uno specifico ITER che nel caso specifico non è stato concluso. Quando io mi sono insediata come assessore era già stato fatto dal Comune di Anghiari il censimento delle colonie feline, ai quali dopo più di un anno, devo dire, quando mi sono insediata ho provato a dare seguito con l'affidamento delle colonie feline. A questo punto alcune gattare, alcune persone che avrebbero dovuto prendere in affidamento le colonie hanno rinunciato perché prenderle in affidamento comporta anche dei doveri, degli obblighi verso il Comune, verso le colonie stesse. Tra queste vi era anche Eleonora Iacono, per cui allo stato attuale delle cose è bene chiarire che la colonia da lei gestita si configura come gruppo di gatti privato, sul terreno privato e non come colonia tutelata dal Comune. Sul caso abbiamo sentito anche l'azienda sanitaria competente in caso di colonia censita per l'attività veterinaria, tra cui ad esempio le sterilizzazioni che comunque avvengono nel Comune Capoluogo. È il Sindaco, ci conferma il dottor Fabio Parca, responsabile del servizio veterinario dell'ASL Toscana Sud-Est, a dover richiedere il riconoscimento della colonia felina, cioè il censimento dei felini randaggi nel proprio territorio. La gestione può poi essere effettuata o in proprio o, come ad esempio accade ad Arezzo, grazie alla collaborazione con specifiche associazioni o privati, ma i gatti devono comunque rimanere in territorio pubblico. A seconda quindi della scelta dei vari comuni, conferma Parca, ci saranno più o meno colonie censite. A Sansepolcro ci dice non ce ne sono ad Anghiari un paio. La questione dell'abuso edilizio ovviamente ha un'altra strada che prescinde dal riconoscimento della colonia felina e per la quale Eleonora sta valutando il ricorso al TAR, ma per quanto concerne il benessere dei gatti, arriva la mano tesa da parte del Comune di Anghiari. Allora, in questo caso inviterei senz'altro Eleonora a confrontarsi con le istituzioni. Lei ha il mio numero di telefono, ci siamo parlati tantissime volte. Ho adottato anche una gattina da lei, quindi ci conosciamo bene. Quindi io la inviterei nel caso a contattarmi, senza dubbio cerchiamo una soluzione insieme. Ovviamente andrebbe perfezionato l'iter di riconoscimento, censimento e affidamento della colonia felina e a quel punto potremmo veramente insieme mettere le energie necessarie a attivare qualche forma di protezione. È vero che in questa zona siamo un po' indietro, questo lo riconosco, ma è appunto invece che farsi le guerre a vicenda bisognerebbe lavorare tutti insieme per la tutela degli animali. Un'idea sarebbe quella di un gattile consorziale dell'Unione dei Comuni della Valtiberina. È un'idea sulla quale ci siamo già confrontati, ma non ancora a livello istituzionale. Quindi in questo caso mi farebbe molto comodo l'aiuto di tutte le persone coinvolte. Dalla Valtiberina alla Valdichiana l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino celebra le coppie che tra gli altri hanno festeggiato lo scorso anno 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Il sindaco Mario Agnelli saluterà le cittadine e i cittadini che hanno raggiunto questi traguardi tanto importanti proprio il giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio alle ore 11 presso la chiesa di Sant'Angelo Alcassero. 40 le coppie che lo scorso anno hanno celebrato le nozze d'oro, 22 quelle di diamante, una di titanio mentre due hanno celebrato i 56 e i 62 anni di matrimonio. Complessivamente sono quindi 65 le coppie di sposi che in questi giorni hanno ricevuto l'invito a partecipare alla cerimonia tanto semplice quanto sentita. E rimaniamo in Valdichiana, andiamo a Cortona perché il Comune ha presentato il calendario delle iniziative culturali, enogastronomiche e sportive. Vediamo il servizio. Cultura, spettacoli, fiere e sport, Cortona svela in anteprima le sue carte presentando il suo cartellone in continua evoluzione. Finalmente riesce a promuovere il calendario degli eventi già fin da febbraio, quindi da inizio anno e credo che siamo effettivamente il primo comune di tutta la Toscana ad avere il calendario già pronto ad inizio anno. Questo per permettere ai tour operator e a tutti i turisti di poter prenotare la nostra città. Ovviamente la mostra di Signorelli la farà da padrone, ci saranno tutta una serie di eventi collaterali, ma dal 23 giugno fino all'8 ottobre avremo in città oltre 25 opere provenienti da tutto il mondo, che appunto arricchiranno la nostra città ma che creeranno una sorta di museo diffuso nel centro storico. Se l'appuntamento dedicato al Signorelli resta la punta di diamante, torneranno in città anche alcuni appuntamenti storici e immancabili, come la giostra dell'archidado, il festival di fotografia a Cortona On The Move, il festival della musica sacra o la Cortona Antiquaria, e si affermeranno anche festival appena affacciatisi in città, come il Nume, il Kilowatt o Cautamente, dedicato alla scienza. Tra le novità in arrivo nel 2023, Cortona Comics. A dare il via alle iniziative però ci penserà un appuntamento ormai entrato di diritto tra i classici cortonesi, ovvero Chianina e Sirà. Sì, si riparte con il voto, possiamo dire così, con il marzo 2023, riproponendo Chianina e Sirà, che oramai è diventato per il nostro territorio un appuntamento fisso con la valorizzazione di due importanti prodotti che ci caratterizzano, vale a dire la Chianina e la Sirà. Saranno tre giorni molto importanti che allieteranno ovviamente turisti e addetti a lavori nel centro convegno di Sant'Agostino. Anche lo sport farà la sua parte per attrarre il turismo e visitatori in città, con un carnet che si andrà sempre più irrobustendo. Il primo evento sulla mountain bike sarà la Baccia alla bike, ormai evento storico del nostro comune che ogni anno si rinnova e quest'anno partirà dal 9 fino ad arrivare al 12 marzo con grandi novità anche con i bambini e le scuole. Si susseguiranno tantissimi altri eventi, tra cui altri come i colli cortonesi sempre sulla mountain bike, una gara che è partita l'anno scorso ma molto molto importante per la risonanza che ha avuto, che passerà per il centro storico di Cortona, ma poi la cortonese, poi ci sarà sport sotto le stelle il 16 giugno, raduni, storicrelli, una serie di eventi di tutti i tipi. Già ad oggi sono quelli già organizzati per la grande organizzazione, appunto sono quelli ciclistici come anche il trofeo Valdipierle che quest'anno vedrà la 22esima edizione, una delle poche gare provinciali di tipo agonistico a livello giovanile. Continuiamo a parlare di cultura e turismo perché si apre domani a Milano fino al 14 di febbraio l'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo e come negli appuntamenti precedenti la Toscana sarà tra i protagonisti. Turismo slow, accordi nazionali e internazionali e offerta dei territori caratterizzeranno la tre giorni dello stand toscano per l'occasione allestito con tecnologie innovative che faranno immergere i visitatori nel paesaggio regionale per una esperienza unica. Andiamo in bit con la consapevolezza di aver chiuso un 2022 con numeri decisamente positivi, commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della regione toscana. Le tendenze in prospettiva ci dicono che nel 2023 torneranno i numeri del 2019 e potremo forse anche fare meglio. Ed sono state inaugurate all'Evane le stazioni di ricarica per le auto elettriche. Vediamo il servizio di Chiara Sadotti. Inaugurate all'Evane nel comune di Bucine le nuove stazioni fast da 75 kilowatt di ricarica per i veicoli elettrici. Questo è un passo ulteriore verso sempre una mobilità sempre più sostenibile. In via Gramsci a Levane nel sito di via Trieste ad Ambra sono così disponibili due stazioni di ricarica rapida da 75 kilowatt per un totale di quattro punti di ricarica che consentono di ricaricare l'auto in modo comodo e veloce. Quattro pole, una fast quindi avremo quattro punti di ricarica che in realtà sono otto prese per la ricarica disponibili per una sosta più lunga, mentre una fast che avrà la necessità di essere per chi ha la necessità di ricaricare in un tempo molto molto più veloce. Nel comune di Bucine sono così adesso in tutto dieci punti di ricarica, due per ogni infrastruttura tra Levane, Ambra, Bucine, Mercatale e Badia e Gnano. Questo appunto per dare una risposta a tutti i cittadini che si sono dotati o che si stanno dotando delle auto elettriche. Come sapete insomma nel nostro piano strategico il discorso della sostenibilità è uno dei punti primari, stiamo lavorando su questo tema come su altri e questa è una tappa importante che siamo riusciti a fare grazie anche alla collaborazione con Enel che è all'avanguardia su questo tema. E adesso cambiamo decisamente argomento perché domani si torna a festeggiare il Carnevale. Vediamo il servizio. E' ancora Carnevale. Maschere, sfilate, carri e travestimenti torneranno ad aglietare grandi e piccini con molti appuntamenti anche in provincia di Arezzo. Tra i più attesi e partecipati c'è quello di Fogliano della Chiana, giunto alla sua 484esima edizione. I cantieri rustici, bombolo, azzurri e nottamboli torneranno per la seconda settimana consecutiva a fare bella mostra delle proprie creazioni in cartapesta. Mastodontici carri allegorici realizzati da maestri della cartapesta e da tecnici della meccanica che richiameranno a Fogliano il pubblico delle grandi occasioni proveniente da tutta Italia, a tratto dalla bellezza di autentiche opere d'arte che sfileranno come di consueto per le vie del centro storico. Da Fogliano a Castiglion Fibocchi con la 26esima edizione dei Figli di Bocco, dedicata quest'anno al Perugino, a 500 anni dalla scomparsa. Si tratta del gran finale della manifestazione con maschere barocche che ricordano il Carnevale veneziano. Domani ci sarà il tradizionale corteo reale nel centro storico. E domani anche ultimo giorno per scattare la foto per partecipare al 15esimo concorso fotografico Il Castello in Maschera, organizzato dall'Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi. Ad Arezzo sarà festa grazie al Carnevale dell'Orciolaia, a partire dalle 15 all'interno del Parco Ducci. Non ci saranno i tradizionali carri allegorici, ma si potrà allo stesso immergersi in un percorso pieno di animazione e divertimento, con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini, all'insegna del circo e della giocoleria. Non mancheranno i treni e le maschere a tema. Ancora un appuntamento per San Valentino, perché appunto martedì 14 febbraio alle ore 21 alla Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo è in programma una serata con apertura straordinaria dal titolo AAA Arte Amore Antiquariato. Casa Bruschi propone agli art lovers di ogni età una serata per festeggiare San Valentino con uno speciale percorso pensato per tutti gli amanti dell'arte e dell'antiquariato. Attraverso le 16 sale del museo sarà possibile scattare un selfie nell'angolo più romantico della casa per poi concludere la visita alla mostra fotografica alla sottilità dell'aria, Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari. Bollicine e dolcezze al cioccolato saluteranno poi gli innamorati. E torniamo ancora a parlare di cultura perché per fortuna ci siamo persi e questo è il titolo del libro di Maurizio Serafini presentato ad Arezzo. Vediamo. Perdersi significa affrontare quello che non si conosce con gioia, con un po' di disciplina e con la possibilità di trovarsi in difficoltà, quindi trovare anche le risorse per reagire di fronte a una difficoltà e perdersi anche l'occasione per conoscere quello che non è stato già scritto, che non è stato conosciuto. Che si tratti di partire al seguito di una carovana di saltimbanchi per attraversare il Sahara, oppure affrontare pirati malesi o da ancora esplorare isole proibite in preda a reminiscenze salgariane. Maurizio Serafini è sempre pronto a godersi gli imprevisti. Per fortuna ci siamo persi, l'arte del viaggio è imprevedibile e il titolo dell'ultimo suo libro presentato al circolo artistico da Francesco Maria Rosti. È un grande personaggio, è un giramondo, è un po' sciagurato, ogni tanto si perde, ritorna da qualche parte del mondo sconosciuta, quindi è un gran onore averlo qui stasera. Storie surreali, affascinanti eppure verissime di un globetrotter che esce spesso dalla strada assegnata e con un pizzico di azzardo e poesia offre un inno allo spirito libero e un po' folle di ogni grande viaggiatore. Noi ci dedichiamo alla conoscenza, apriamo gli occhi a qualcosa che non era previsto, non era, non faceva parte della nostra conoscenza. Invece, ecco, la differenza con la vacanza è esattamente quando vai in un posto, un posto qualsiasi, un posto dove trovi quello che era già stato programmato, trovi tutto quel mondo da cui il viaggiatore in realtà fugge. Diciamo, quando si esce dalla zona comfort comincia il viaggio. E adesso, come di consueto, passiamo allo sport, nuovo impegno di campionato per l'Arezzo Calcio. Ascoltiamo le parole dell'allenatore Paolo Indiani alla vigilia di Serravezza Arezzo. Ma anche stamani è il fatto forzale. Chiaro, siamo stati attenti, non abbiamo rischiato niente per andare a vedere nelle prossime 24 ore. Si vede domani se è a disposizione oppure no. Per il resto tutti disponibili, credo ci sarà qualche problemino di abbondanza, ma si dice che sono falsi problemi questi, no? È d'accordo? Credo siamo nelle poche volte, se non l'unica forse. No, bisogna vedere un vitto, perché se no anche questa volta non siamo al canale completo. È abbondanza. Se vuoi vincere un campionato, o tentare di vincere, o lottare per vincere, o programmarlo per vincere, per forza ci deve essere abbondanza. Con 12 giocatori di solito non si vincano più nani. L'Alezzo va a giocare contro una Serravezza che non perde da otto giornate, ha il capo cannoniere del torneo. È una squadra in fiducia in questo momento, no, mister? Dalle immagini che avrà visionato, che sensazioni ha avuto su questo avversario? No, ovviamente questo è il punto. La squadra, abbiamo visto l'ultime sette, otto, sarebbe prima in classifica addirittura. Non da quando è cambiato l'allenatore, anzi, anche prima, perché fu esonerato il precedente dopo una vittoria, credo, contro la San Giovandese. E sono fiducia a una nostra strana che hanno fatto quattro vittorie, tre pareggi, la nuova gestione, di cui tre pareggi tutti in casa. E hanno vinto tutte le partite fuori. Però questo, non so fino a che punto può essere indietro. Sicuramente la vostra sicura è che sono fiducia, hanno il capone del campionato e hanno qualità, hanno qualità, hanno buonissima squadra. Che cosa ha chiesto alla squadra? Cosa chiederà alla squadra in questo momento? questa partita, mister, no? Anche perché il ricordo di Terranova è ancora abbastanza fresco, anche se poi c'è stata la vittoria con la Flamengo. No, no, non credo. Le condizioni sono diverse. Le condizioni sono diverse. È un nostro errore di Terranova, ora si può dire, a distanza di 15 giorni, è aver pensato che il terreno era ragionabile. Cioè che il fondo, come ci avevano detto, è una falsa notizia. Domani in sintesi il discorso non abbia tutto. Però dubbiamente il ricordo c'è e va tenuto a te, sempre presente. Ma che ho detto? Di continuare. Spero che quella di domenica sia stata a 13 giornate alla fine, però si è già detto troppe volte. Però quella di domenica ha un certo senso nuovo rispetto alle precedenti, ce l'ha avuta. C'è una maggiore, credo, attenzione a tutto quello che non è esclusivamente giocare. Ecco. Che noi fino allora siamo stati bravi. Dal calcio al rally, perché è partito da Arezzo il rally della Valtiberina che toccherà l'Alpe di Poti e D'Anghiari. L'arrivo domani a Sansepolcro. Vediamo il servizio. La terza edizione del rally della Valle del Tevere è sicuramente importante per quanto riguarda l'aspetto sportivo, ma assolutamente importante per quanto riguarda il territorio. Perché è una gara che abbraccia sia la Valtiberina che Arezzo città e ha un forte impatto sull'ospitalità di tutte le persone che vengono, sia i piloti, gli addetti ai lavori e il pubblico. E quindi ha una forte ricaduta sia economica che sportiva nel nostro territorio. Senta, allora, c'è anche una parte dedicata alle auto storiche? Assolutamente sì. La nostra gara è valevole come prima gara del campionato italiano rally storiche. E quindi siamo orgogliosi di aver ottenuto questa titolazione da parte della federazione alla quale i piloti hanno risposto in maniera molto partecipata. Infatti sono ben 21 le vetture della categoria storica che partecipano a questa gara. Che tipo di cilindrata ha? Tutta la cilindrata, dai 1.300 fino a oltre i 2.000 cm3 di cilindrata. Una macchina rappresentativa di questo tipo di autovetture qual è? Ma sicuramente per le macchine storiche, la macchina che ha fatto conoscere i rally agli italiani, insomma, è la Lancia Delta Integrale, che sicuramente, ecco, negli anni 90 ha riempito i cuori degli appassionati. Quante ce ne sono in questo rally? In questo rally ce ne sono ben tre. Tre Lancia Delta Integrali. Ci dice tutto il percorso? Che percorso faranno? Allora, il percorso si sviluppa con la partenza qui ad Arezzo, poi ci sarà la prova speciale dell'Alpe di Poti, poi tutta la carovana si dirotterà in Valtiberina, dove ci saranno due prove speciali sulla San Salvatore e poi le macchine si fermeranno ad Anghiari per un riordino notturno. Domani mattina ripartiranno con altre sei prove speciali tra Anghiari e Pieve Santo Stefano fino ad arrivare all'arrivo a San Sepolcro. E domani si conclude il preview di Arezzo Siena e Arezzo organizzato da Soccer Academy alla Chiasa Sporting Club. Otto squadre si contenderanno il pass per la fase finale in programma Forte dei Marmi dal 7 al 10 di aprile. Ecco le squadre partecipanti. Bastia, San Biniato, Casentino Academy, Valentino Mazzola, Chiasa, Madonna del Latte, San Sepolcro e San Giovannese. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.